Perché io l'ultimo ricordo che ho del Presidente che parla agli italiani risale all'11 settembre, per capirci. Cioè, alle Torri Gemelle, al terrorismo, non so. Serviva anche a far capire che è il momento a responsabilizzare le persone, no? Perché fino adesso probabilmente non ci siamo bene resi conto di quello che stava succedendo. Il fatto che all'inizio fosse localizzato, no? Si cominciava a pensare... E credo che l'intervento del Presidente sia lì a dirvi, a dirci a tutti. Questa cosa ci riguarda tutti. Ne usciamo, ne veniamo fuori. Però ci attende una traversata del deserto. Ognuno si deve assumere la sua responsabilità, vigilare e stare insieme, fare comunità. Forse in questo senso paradossalmente noi ne abbiamo bisogno perché siamo esplosi negli ultimi anni come Paese proprio. Adesso ci troviamo ad affrontare una prova tremenda. Però, proprio perché staremo insieme, ce la faremo. Altrimenti ci disgreghiamo, no? E questo è il momento nel quale non si possiamo permettere.